Ciao mondo, oggi è il mio ultimo giorno qui, tornano stasera, non so se tornerò stasera stesso a casa ma intanto vi faccio vedere le papperette, ho dato la pappa a tutti, ho cambiato l'acqua, adesso vi faccio vedere di nuovo le miste ok, eccoci qua, facciamo quest'ultimo vlog i piccolini, dopo gli diamo le carote, i cetriolini, abbiamo rotto la pappa, l'erba, il pieno, oggi ho pulito il percioso, ho cambiato l'acqua e loro le galline poi li stanno mangiando c'è quella con la cresta che è la più mangiona, disgraziata e mi stava chiedendo altra roba dopo, mi guardava e mi faceva basta, quanto è bella quella nera, sono tutte belle ma quella nera, ecco, sì tu ti sei sentita nominata beautiful duck, questa è la mangiona, questa con la cresta è la mangiona, vero che sei la mangiona, l'ultimo dei miei cani eh? tu che mangi tutto quello degli altri credo che domani cambi l'acqua non posso cambiarla io perché è pesante per me quindi ho messo l'acqua fresca, lì, dentro, pulito dalla cacca è bello, mi mancheranno però non vedo l'ora di tornare a casa dalla mia bimba e dal mio bandito è merlino che è mia baby beautiful mi sono presa un po' di mele, farò la torta di mele e volevo farvi vedere quanto è, questa qui nera, c'ha le fiume anche viola, è bellissima siete tutte belle, una differente dall'altra c'è anche quell'altra col parrucchino, quella più chiara al parrucchino vediamo se si fa riprendere è ok baby hai un nuovo vlog, il mio vlog beautiful, tu sei beautiful sta funzionando no, no, è ok sei una star ora va bene, le lascio in pace, non voglio stressarle bene, my last vlog in dolphin home oh, quello piccolino è troppo carino, quello marroncino è più piccolo, ma quante amore no, no, non scappare che sei tanto carino guardate quanto è bello, si vede quanto è amore e mangia, mangia molto e si, perché devo crescere, mamma, mamma, ci sono la zia I'm your uncle no, your aunt, non uncle, uncle lo zio, aunt e la zia ah no, queste sono un po' di ho dato anche un po' di verdura oltre il mangime che quanto parli piace molto la lattuga guarda, guarda quella la mangiona di casa ultimo dei molcani che carina quell'altra col parrucchino bianco sono troppo belle it's ok, sono io quella che vi do da mangiare ultimamente ma come notti, ok, ok oh you become a star, no? no become a star, ok bene, finish vlog beautiful day il sole, meraviglioso oggi ha piovuto un bel po' poi è uscito il sole e quindi almeno stamattina ho pulito bene bene con la cacca perché con la pioggia ho potuto fare kelby? bah kelby, sì dolphin dolphin home mi mancherà perché a me piace acudire degli animali però mi mancano anche tanto merlino, bandito e agata la gattina mia che ha detto adesso ti preparo qualcosa ha già fatto una torta oggi perché veniva una persona e allora ha preparato la torta, ha preparato il tè una sua amica adesso ha detto mamma prepara un po' di pasta quando vieni ce la passa la torta alla faccia della mia dieta ah che carina sono simpatica che belle voi siete fortunate che non finite in padella ok? non ve lo dico più oddio no io non ne mangio papà tranquilla che non ne mangio la più permalosa ciao permalosa tu sei bellissima ok il mio ultimo giorno buon riuscire a incontrarti ok andiamo va oh porca miseria ok mannaggia oddio mi ha aperto mi ha male che non sono uscita non sono uscita non sono uscita le galline ci sono 1,2,3 3 ah ok ci siete tutte 4 oh my godess ok fra un po' devo dare aspetta fra un'ora cetriole e carotte e ho fatto i piselli li danno loro stasera perché io a meno che non lo so adesso se mi riaccompagnerà a casa oggi stesso se ne avoglia perché ho bisogno di un'altra doccia e cambiarmi perché avevo due pantaloni e due magliette le ho anche lavate però non ne posso più voglio cambiarmi bene ciao mondo last vlog in Dolphinholm ciao un abbraccio qui Jenny se riesco a chiudere una bella cosa non riesco a chiudere ecco ciao